Candido o l'ottimismo di Voltaire? Secondo Voltaire il provvidenzialismo leibniziano, ma adesso approfondiremo un po' il discorso. Dire due parole su questo autore, su questo filosofo, Vittorio Hugo è riuscito, credo, con una frase brevissima a farci capire l'importanza di questo filosofo. Infatti Vittorio Hugo ha scritto che Voltaire è il Settecento, cioè Voltaire incarna il secolo dei lumi sotto tutti i punti di vista, per le tematiche che ha affrontato, per i rapporti addirittura con i potenti che ha sviluppato, per la collaborazione all'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, insomma per tutti i motivi che adesso andremo ad esporre parlando appunto della vita di Voltaire, il quale è stato, beh è nato nel 1694 da una famiglia borghese, era stato introdotto in una società libertina parigina, ma comunque sin da giovane si era capito che aveva uno spirito caustico, cioè un'ironia pungente, che poteva anche risultare un po' fastidiosa per alcuni. Tant'è vero che fu perfino imprigionato nella Bastiglia, la famosa prigione nel 1716, fu costretto all'esilio, dovete andare via, ma comunque lui fu anche contento di andare via da questa Francia retrograda che non lo stava capendo. Andò in Inghilterra dove apprese le dottrine filosofiche dell'empirismo, comunque in generale molto più pratiche e meno metafisiche, e quindi gli piacque molto la filosofia inglese, soprattutto quella di Locke, e apprese anche i rudimenti, no, sono sbagliato, non i rudimenti, apprese anche tutti i principi della fisica di Isaac Newton. Anche a queste si interessò tantissimo, scrisse addirittura un libro di divulgazione della fisica newtoniana, e poi scrisse delle lettere, chiamate lettere inglesi, e poi lettere filosofiche, nelle quali dimostrò come era più avanti in Inghilterra, non solo da un punto di vista politico, perché c'era la monarchia costituzionale dopo le due rivoluzioni, soprattutto dopo la rivoluzione gloriosa in Inghilterra, ma anche e soprattutto da un punto di vista culturale. fu addirittura condannato a rogo, proprio per queste lettere filosofiche. Vedete che in questa copertina c'è Voltaire in alto e in basso c'è Diderot. E poi c'è anche quella frase che a lui viene attribuita, ma molti studiosi dicono che non sia sua, però in un certo senso inquadra bene, sintetizza bene anche il suo modo di pensare, io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita, perché tu possa esprimere questa tua idea. Ecco, stavamo dicendo che questo comunque sintetizza bene il modo di pensare di Voltaire, perché lui ha vissuto sulla sua pelle l'intolleranza degli altri e quindi ha capito invece il valore della tolleranza delle idee altrui. Quando viene addirittura condannato a rogo, fugge in Lorena, presso il castello di questa bella donna, Émilie du Chatelet, che è anche oltretutto una matematica, vedete che ha scritto i principi matematici, una fisica, nel senso che studia la fisica, è una filosofa, quindi era veramente apparentemente proprio la donna ideale che poteva essere la compagna di vita di Voltaire. Però Voltaire, ma forse anche lei, non erano persone da rapporti così perpetui. E così a un certo punto lei ebbe un altro amante diverso da Voltaire e Voltaire se ne andò via da lei, ritornò a Parigi con l'aiuto di quest'altra signora, la madame de Pompadour, regina dei salotti parigini, diventò lo storiografo ufficiale del re e quindi fu riabilitato alla corte di Parigi. Qualche anno dopo, nel 1749, andò a Berlino presso il re di Prussia, Federico II di Prussia. Nella sua reggia non berlinese, quella di Saint-Sussi, il nostro Voltaire influenzò tantissimo Federico II di Prussia, che era molto sensibile alle scoperte e alle riflessioni filosofiche del tempo. Era insomma il tipico esempio del sovrano illuminato, anche se era un grande militare, soldato, tra l'altro fece la guerra dei Sette Anni, di cui parleremo dopo, però sicuramente aveva dimostrato di essere molto molto attento agli sviluppi della cultura e della filosofia. Applicata però, ecco, filosofia anche applicata, a Voltaire non piaceva molto la teoria, piaceva moltissimo la prassi, cercare di essere incisivo anche nella realtà. Amava molto di più la pratica, la prassi, che non nelle riflessioni così astratte e teoriche. Ci fu però un litigio con il presidente dell'Accademia di Berlino. A quel punto Voltaire fu costretto ad andare via anche dalla Prussia. Nel frattempo però, questo qualche anno prima, avevo scritto questa tragedia, Maometto, ossia il fanatismo. Abbiamo fatto vedere un frontespizio di una delle tragedie di Voltaire, ma Voltaire ne aveva scritte tantissime. Quindi, oltre ad essere un filosofo, era un letterato, scriveva tanto, ha fatto tante opere, non solamente di carattere filosofico, ma anche di carattere letterare. Questo è il motivo per cui noi, che siamo più letterati, insomma, che i filosofi, affrontiamo questi argomenti o leggiamo le sue opere. In Francia, quando ci ritornò, scrisse alcune voci dell'enciclopedia, quindi collaborò al lavoro di Diderot. Nel 1752 pubblicò, scrisse un altro racconto filosofico molto molto interessante, che noi in italiano chiamiamo così Micromega, anche se probabilmente in francese si dice Micromega, e si scrive anche con una S finale. Non ci soffermiamo su questo, perché se poi vi piace l'argomento, possiamo fare una diretta live su questo interessantissimo e originalissimo romanzetto. Poi scrive appunto nel 1759 il candido, che è l'argomento principale della nostra diretta di stasera, dopo il terremoto del 1755, le sue convinzioni antiprovvidenzialiste si approfondirono e, come dire, divennero ancora più fondate in base all'esperienza di quella che era stata la realtà dei fatti. Insomma, anche la natura non è così tanto benigna nei confronti degli uomini. Direbbe anche Leopardi, che ovviamente poi studiò, lesse Voltaire, che scrisse le operette morali, che hanno qualcosa in comune dal punto di vista dello stile, con questi racconti filosofici di Voltaire. Poi nel 1763 pubblica quello che probabilmente è il libro suo più famoso, più però filosofico, che è il Trattato sulla tolleranza. Poi ritorna a Parigi, tra l'altro scrive un'altra opera, sempre filosofica, molto molto importante, che è il Dizionario filosofico. L'anno dopo del Trattato sulla tolleranza pubblica il Dizionario filosofico, il suo Dizionario filosofico. Ecco, poi nel 1778 quando torna a Parigi, muore, però, diciamo, comunque è vissuto per 84 anni, quindi, come dire, la sua parabola esistenziale ha coperto quasi tutto il secolo dei Lumi e comunque l'ha grandemente influenzato. Ecco, adesso vorremmo parlare del nostro racconto filosofico, del romanzo filosofico del candido di Voltaire. Per introdurci però all'argomento, ci piace molto ricordare quello che aveva scritto un altro pensatore inglese, generalmente considerato un po' di secondo piano, però, aveva scritto una cosa più o meno di questo genere, cioè che solo il buon umore, la risata gioiosa e l'umorismo sono capaci di sconfiggere l'intolleranza e il fanatismo. Questo tale pensatore che viene chiamato così Chefsbury, boh, spero di averlo pronunciato bene, il suo nome sarebbe Anthony Ashley Cooper, terzo conte di Chefsbury, mamma mia, non riesco, chiamiamo Chefsbury e basta, senza stare a pronunciare anche la F e la T in mezzo, Chefsbury, è stato un pensatore di una generazione precedente, che però probabilmente ha ispirato anche il nostro Voltaire, perché Voltaire proprio in questo racconto filosofico di cui parleremo oggi, o romanzo filosofico, è un racconto lungo, un romanzo breve, come volete chiamarlo voi, ha dimostrato di poter usare, di saper usare l'ironia, la risata che l'ha presa in giro in tutte le sue sfumature e declinazioni, quindi, dicevamo, fino ad arrivare al sarcasmo anche piuttosto acre, pungente, perché lui ne era capace, l'aveva dimostrato in tanti pamflet, ecco, polemici, ma anche in maniera un pochettino più sottile e meno diretta, attraverso allegorie, attraverso, appunto, antifrasi, quindi che vuol dire praticamente ironie, sicuramente, per esempio, ecco, i nomi dei personaggi, già nei nomi dei personaggi c'è tanta ironia, anche nello stesso nome del nostro protagonista, Candido, che è la figura, rappresenta la figura dell'ingenuo, l'ingenuo che poi, effettivamente, va incontro a tantissimi, l'ingenuo ottimista, va incontro a tantissimi guai, tantissime disgrazie, tanto che sembra proprio che questo mini alle basi quell'ottimismo che lui aveva sposato così ingenuamente, appunto, dicevamo, quando era giovanissimo. Sia, dicevamo, in questa figura, nell'altra figura del leibniziano Pangloss, che è il maestro, il filosofo del barone, quindi della casa in cui viene ospitato Candido, quindi del palazzo del barone, e che ha instillato in Candido questa filosofia leibniziana che evidentemente è un nome sicuramente che deve avere qualche significato ironico, non tutti sono d'accordo sul significato che possa avere, ma tutti sappiamo che le due parole pan e gloss più o meno in greco suonano tutto e lingua. Però qualcuno l'ha interpretato, a me piace molto questa interpretazione, anche se magari non è quella giusta, dire tutto, uno che dice tutto, il nostro Pangloss, ma in realtà non dice niente di sensato. E poi, insomma, quando usa scempiologia o scemologia per indicare la branca del sapere in cui è specialista il nostro Pangloss, e quando ripete più e più volte ironicamente la frase di Leibniz, andiamo a vedere proprio la caricatura, no? Cioè, tutto è bene e noi viviamo nel migliore dei mondi possibili, ecco, sicuramente è, ecco, appunto, la parodia anche è un altro modo di colpire il, questo pensatore Leibniz che a parere di Voltaire aveva proprio, come dire, non aveva capito niente della realtà del mondo e quindi anche della filosofia. Allora, stavamo dicendo quindi di questo romanzo filosofico, dovete sapere che il Candido quando fu pubblicato nel 1759 andò incontro a delle condanne. Già nella stessa Ginevra dove lui visse parecchio tempo e si trovava proprio a Ginevra in quegli anni, diciamo che ci fu una condanna ma una condanna piuttosto grave e anche in questa occasione Voltaire dovette scappare per evitare il rogo veramente. Eppure forse anche perché tutti parlarono in quegli anni della pubblicazione di questo libro furono stampate tantissime copie di questo romanzo filosofico tanto che nell'anno di pubblicazione appunto in cui il 1759 se ne dovettero fare 13 edizioni quindi fu davvero un successo editoriale straordinario è un romanzo particolare abbiamo detto e questo sicuramente possiamo definirlo così romanzo filosofico perché non è semplicemente un'opera di letteratura ma è anche un'opera di filosofia polemica contro il providenzialismo di Leibniz dicevamo però ha anche altre caratteristiche le caratteristiche tipiche ad esempio del romanzo picaresco per via delle avventure e dei viaggi che portano Candido a vagare per quasi tutto il mondo è anche un romanzo di formazione perché abbiamo detto che volente o nolente anche se perfino nell'ultima parte Candido certe volte ripropone quella frase leibniziana che siamo nel migliore dei mondi possibili eccetera e appare quindi ancora un po' ingenuo sta di fatto comunque che è un percorso c'è stato un percorso di formazione quindi è un po' Bildungsroman è un romanzo che ha rappresenta situazioni anche piuttosto forti crude tragiche uccisioni anche il nostro Candido si macchia di ben tre omicidi ma in maniera umoristica in maniera quasi comica rapido perché sono tanti gli eventi che si succedono l'uno dopo l'altro realistico fino a un certo punto perché ci sono degli aspetti fantastici questo soprattutto verso la metà di questo libro quando si parla in particolar modo dell'Eldorado e anche di una regione in cui c'erano donne e scimmie ecco quindi un po' vi ho iniziato a presentare questo romanzo ma adesso è arrivato il momento di parlare proprio e anche di leggere dei brani da questo romanzo per esempio proprio un po' leggiamo come inizia questo romanzo poi a un certo punto vi dirò se avete voglia di non perdervi il finale vi dirò guardate sto arrivando verso la fine e quindi magari interrompete la visione se volete vedere un po' come va a finire anche se sicuramente non si tratta di un giallo ecco quindi anzi il messaggio che come dire che Voltaire dà alla fine del romanzo è un messaggio che in maniera un po' subliminare è presente in tutto quanto il romanzo però vedete un po' voi fate un po' voi sta di fatto comunque che il romanzo incomincia così c'era in Westfalia ah si infatti il romanzo viene rappresentato come un testo tedesco che viene tradotto ecco da un originale c'era in Westfalia nel castello del signor barone di Thundertentronk anche nella parola Thundertentronk inventata c'è sicuramente qualcosa di ironico che ha dentro di sé per esempio un termine che più o meno in una lingua appunto germanica o anglosassone può significare tuono e anche un altro termine storpiato che potrebbe avere tanti significati quel tronk c'era un ragazzo cui la natura aveva fornito un temperamento assai mite il nostro candido è mite gli si leggeva in fronte l'indole sua aveva l'intelletto abbastanza solido e il più ingenuo cuore del mondo credo fosse chiamato candido appunto per questo quindi per questa ingenuità puro innocente come uno che è candido quindi che è bianco che è innocente che non conosce la vita i servitori vecchi di casa sospettavano che egli fosse figlio della sorella del signor barone e di un buono e rispettabile cavaliere del vicinato quindi non si sapeva bene chi erano i genitori di candido non ha mai voluto sposare da Radamigella perché non gli era riuscito di provare che 72 quarti soli di nobiltà essendosi perduto il rimanente del suo albero genealogico per oltraggio del tempo già anche l'espressione 72 quarti in realtà è una espressione ironica e iperbolica perché se ci pensate bene 72 quarti insomma è una frazione che in realtà è piuttosto che indica un numero piuttosto elevato avanzato quindi è molto forte qui l'ironia non può essere sposato dalla Baronessa perché ha solamente 72 quarti i quarti di nobiltà in realtà possono essere un quarto due quarti tre quarti se sono 72 ci fa pensare ironicamente Voltaire vuol dire che in realtà ha fin troppa nobiltà però ripeto è solo una questione di ironia il signor Barone era uno dei grandi signori della Vestfalia il suo castello era fornito infatti di porta e di finestre ecco anche questo infatti è fortemente ironico come si fa ad affermare da un punto di vista logico che lui è uno dei più grandi signori della Vestfalia infatti il suo castello era fornito di porta e di finestre non ha logica questo noi ci aspetteremmo con quelli infatti una dimostrazione della grandezza di questo potente Barone che invece non c'è perché il fatto che il castello abbia una porta e delle finestre non è che dimostri la grandezza di questo signore va bene adesso andando avanti un po' più rapidamente dobbiamo dire che a un certo punto di questa narrazione si spiega che appunto Candido segue le lezioni di Pangloss cioè segue le lezioni di questo insegnante di metafisico teologo cosmo-scempiologia tradotto anche con cosmo-scemologia insomma in mezzo a tanti termini altisonanti c'è questo scempiologia o scemologia che fa capire subito quello che vi dicevo prima come in realtà questo tale dottor Pangloss non sia un così gran pensatore ecco c'era la figlia del barone che però era molto bella giovane e anche piuttosto carnosa che era Cunegonda ora che cosa succede a un certo punto succede che Cunegonda ecco qui intanto vediamo Leibniz questo pensatore che viene un po' ridicolizzato nella figura di questo suo seguace Pangloss stavamo dicendo quindi che a un certo punto Cunegonda scopre Pangloss nei cespugli insieme con una cameriera con la quale stava facendo un esperimento di fisica è chiaro che si trattava semplicemente come vedete da questa illustrazione fisica applicata insomma di abbracciare questa ragazza di trastullarsi con lei con questa cameriera lei cioè Cunegonda rimane molto turbata aveva già visto Pangloss scusate aveva già visto Candido suo coetaneo si può dire e Candido aveva visto lei e i due quindi pensano bene di poter fare esperimenti di fisica molto simili a quelli che sta facendo Pangloss con quella cameriera e che cosa fanno si nascondono dietro un paravento lì nel palazzo nel castello del nostro barone convinti di poter trastullarsi e sollazzarsi senza che nessuno li disturbi invece capita proprio il barone e allora il signor barone dice siamo verso la fine insomma di questo brano del primo capitolo quando si accorge di questo scacciò Candido dal castello a gran calci nel sedere e anche nei confronti di sua figlia fu estremamente duro e rigido e il nostro Candido che pensava proprio di poter vivere nel posto migliore del mondo in questo castello il più bello del mondo nel migliore dei mondi possibili una sorta di paradiso di Eden originario è costretto ad andarsene via e viene cacciato via a pedate da quel momento incominciano le peripezie del nostro Candido che lo porteranno un po' dappertutto anzitutto in mezzo all'Europa che in quel periodo era proprio tormentata dalla guerra dei sette anni e c'erano tanti tanti eserciti e tanti popoli a Candido capita di capitare scusate di essere arruolato nell'esercito dei bulgari i bulgari di Federico II proprio il Federico II di Prussia di cui abbiamo parlato prima lui che tra l'altro quando era stato cacciato faceva fatica proprio a vivere e stava morendo di fame e di stanchezza viene preso da questi soldati e magari spera di poter migliorare la sua condizione che era diventata così penosa quando ormai era diventato un vagabondo ma le cose non vanno molto bene perché anzitutto questi tali bulgari lo frustano gliele fanno di tutti i colori e poi anche lo costringono agli esercizi militari proviamo a leggere un brano dal capitolo terzo dove c'è una evidente parodia della guerra una delle tematiche sicuramente che caratterizzano Volterra in generale gli illuministi è la tematica antibellica cioè contro la guerra dovete sapere che il settecento infatti era stato un secolo in cui si erano succedute una guerra dopo l'altra prima le guerre di successione e poi questa guerra dei sette anni e invece i pensatori illuministi propendevano per la pace Volterra sicuramente era uno di questi ecco quindi in quale maniera ironica ci presenta questa guerra il nostro Volterra la magnificenza l'eleganza lo sfarzo l'ordine dei due eserciti ah sì gli eserciti che sono schierati l'uno contro l'altro sono gli eserciti dei bulgari e degli avari detti però abari nel testo sotto i nomi di queste due popolazioni però Volterra nasconde in realtà i prussiani e i francesi che erano i principali nemici antagonisti in questa guerra dei sette anni oltre vabbè c'erano anche inglesi e russi per carità però diciamo nel cuore dell'Europa si erano sfidati soprattutto i prussiani e i francesi una delle prime grandi guerre fra diciamo tedeschi e francesi perché poi nei secoli successivi ce ne saranno ancora molte molte altre dice la magnificenza l'eleganza lo sfarzo l'ordine dei due eserciti non avevano confronti trombe pifferi clarinetti tamburi e artiglierie facevano una musica che l'inferno non ne aveva mai sentita una uguale cominciarono le artiglierie con lo stendere a terra un 6.000 uomini per parte la moschetteria tolse poscia dal migliore dei mondi possibili da 9.000 a 10.000 bricconi ecco anche questo estremamente ironico quando gli capita a Voltaire quando gli è possibile rimette sempre dentro quella famosa frase di Leibniz in tutto quanto il romanzo a dimostrare come sia veramente ridicola quella frase per via di tutti i mali che vessano l'uomo che tormentano e quindi ci presenta una guerra disastrosa una guerra cruenta come come se fosse una barzelletta migliaia e migliaia di uomini la loro morte è presentata come togliere dal migliore dei mondi possibili da 9.000 a 10.000 abricconi anche qua è ironico perché la soldataglia degna solo di essere spazzata via dal punto di vista però dei signori dei padroni del mondo che ne infettavano la crosta la crosta di questo mondo e la baionetta fu a sua volta ragion sufficiente per la morte di qualche altro migliaio tutto sommato furono intorno a 30.000 anime fin tanto che durò l'eroico macello candido che tremava come un vero filosofo si nascose meglio che potè mentre i due sovrani facevano ciascuno intonare il tedeum ringraziando quindi Dio perché ciascuno dei due riteneva di essere il vincitore di quella battaglia il sovrano dei bulgari e quello degli avari in realtà popolazioni decisamente secondarie perché come abbiamo spiegato erano ben altri gli eserciti e i popoli insomma che si fronteggiavano a quell'epoca mentre i due sovrani facevano ciascuno intonare il tedeum nel proprio accampamento egli decise di andare a ragionare degli effetti e delle cause in qualche altra parte altra notazione ironica perché secondo Leibniz la dimostrazione del fatto che siamo nel migliore dei mondi possibili deriva proprio dalla da questa successione di effetti e di cause Pangloss aveva insegnato a Candino nel primo capitolo che non c'è alcun effetto senza una causa ecco abbiamo letto quindi questo brano tratto dal terzo capitolo adesso insomma andiamo avanti con la nostra storia perché vorremmo leggere anche un brano tratto dal sesto capitolo prima di arrivare a questo brano tratto dal sesto capitolo dobbiamo spiegare che scampato quasi miracolosamente alla distruzione della guerra malconcio comunque il nostro Candido continua le sue peregrinazioni si rifugia in Olanda dove viene accolto da un'ana battista e ritrova Pangloss ecco tra l'altro quando ritrova Pangloss all'inizio non lo riconosce perché vede semplicemente un vecchio poveraccio che è lì per la strada ed è afflitto dalla sifilide a quel punto si avvicina questo poveraccio poi come stavamo spiegando si rivela per essere appunto Pangloss e gli spiega che quando lui è andato via da quel castello sono arrivati appunto questi bulgari sono arrivati i soldati hanno assediato e occupato il castello ucciso ammazzato tutti quanti stuprato con Egonda e uccisa anche lei e che Pangloss in buona sostanza si era salvato per miracolo perché tutti quanti gli altri erano morti e che era stato un bene che Candido fosse stato mandato via a pedate dal barone perché così si era scampato a questa invasione a questa violenza di questi soldati a questo punto dicevamo che Candido ha trovato questi due compagni di viaggio i suoi viaggi proseguono con loro due cioè con questo Anna Battista e con Pangloss e arrivano in Portogallo proprio nel momento in cui scoppia il terremoto di Lisbona appena si furono un poco riavuti presero la via di Lisbona avevano salvato qualche soldo anche lì comunque ad esempio in Olanda dove si erano riuniti ne avevano dovuto sopportare di cotte e di crude avevano salvato qualche soldo grazie a cui speravano di scampare la fame dopo essere sfuggiti alla tempesta sono appena entrati in città piangendo ancora la morte del loro benefattore il loro benefattore è l'Anabattista Giacomo seguace di una setta protestante tedesca che appunto sosteneva che bisognava battezzarsi un'altra volta perché il primo battesimo non era valido quello per esempio imposto ai neonati e bisognava battezzarsi da adulti ecco era morto già il nostro terzo compagno il nostro Anabattista sono rimasti solamente i loro due cioè Candido e Pangloss appena entrati in città piangendo ancora la morte del loro benefattore quando la terra trema loro sotto ai piedi il mare si innalza ribollendo nel porto e schianta le navi che vi stanno ancorate turbini di fuoco di cenere empiono le pubbliche piazze e le vie le case rovinano i tetti precipitano sulle fondamenta le fondamenta sono disperse 30.000 abitanti di ogni sesso ed età restano schiacciati sotto le rovine il marinaio fischiettava bestemmava e diceva qua c'è da rimadiare qualcosa come dire magari si può rubare qualcosa visto che magari sapete cosa succede quando ci sono i terremoti ci sono spesso quelli che approfittano della situazione poi Pangloss che era presente lì si chiedeva quale sarà mai la ragione sufficiente di un tal fenomeno come far rientrare un fenomeno così disastroso come il terremoto del 1755 che rase al suolo la città di Lisbona ci fu un terribile maremoto abbiamo detto e fece morire migliaia e migliaia di persone non solo a Lisbona ma in tutto il resto del Portogallo e anche in alcune zone della Spagna e perfino del Marocco una tragedia tremenda uno dei terremoti più violenti della storia quale mai sarà la ragione sufficiente di un tale fenomeno è la fine del mondo esclamava Candido la mattina dopo rivestando tra le macerie trovarono qualche cibo e potevano ristorarsi alla peggio quindi scampati miracolosamente a questo terremoto in realtà però i nostri due a Lisbona si troveranno molto molto male per il semplice fatto che una volta terminato questo terremoto i religiosi del posto e in particolar modo l'inquisizione interpretarono così il terremoto come una sorta di dimostrazione del peccato dell'uomo e che poteva essere solamente placata la natura Dio poteva essere placato solamente se si sacrificavano degli uomini per esorcizzare il terremoto quindi l'inquisizione prese catturò per esempio Pangloss lo impiccò e mentre Candido fu fu stigato l'auto da fe quindi l'esecuzione pubblica di Pangloss doveva essere doveva purificare la città in modo tale che non potesse continuare questa tragedia e invece la terra tremò di nuovo proprio a dimostrazione che non c'era una conseguenzialità fra non so il sacrificio di questi uomini anche del nostro Pangloss e la fine delle distruzioni Candido poi dopo cosa succede che continuando sempre qua a Lisbona le sue peripezie incontra una vecchia e tra l'altro dobbiamo anche dire ecco sì che questa vecchia è sicuramente un personaggio importante un personaggio interessante e che anche è la dimostrazione insomma di come non è che ci sono tanti personaggi che incarnano per esempio proprio questa vecchia poi vedremo Cacambo e Martino in particolare nella loro pure semplicità incarnano un modo di vedere le cose molto più realistico e molto più vicino alla ragionevolezza la vecchia porta Candido da Cunegonda che in realtà non è stata violentata e sventrata dai bulgari come aveva raccontato Pangloss visto che era ancora viva e vegeta questa era stata venduta a un banchiere ebreo questo banchiere ebreo si trastulla con Cunegonda e non solo lui ma anche l'inquisitore sorpreso dall'ebreo e dall'inquisitore Candido ammazza l'uno e l'altro qui vediamo un'illustrazione appunto di quando Candido ha appena ucciso il giudeo Don Issacar in casa di Cunegonda e qui abbiamo un'altra illustrazione di quando l'inquisitore scopre Candido la vecchia e Cunegonda con il corpo dell'usurario ebreo ucciso da Candido per difendersi che accusa i due ma a questo punto come stavamo spiegando prima Candido infilzerà e quindi ucciderà l'inquisitore andiamo pertanto a fare vedere attraverso questa diapositiva come si apra da questo momento in poi tutta una seconda parte o chiamiamola parte centrale del nostro romanzo che vede addirittura Candido prendere una nave e imbarcarsi per il Sud America infatti si imbarca per il Paraguay con Cunegonda e con la vecchia e questa l'occasione anche perché la vecchia racconti le sue disgrazie attraverso queste disgrazie Voltaire vuole denunciare le violenze ai danni delle donne a questo punto Candido vorrebbe proprio che fosse ancora vivo Pangloss per muovergli delle obiezioni arrivano tutti quanti insieme a Buenos Aires Cunegonda diventa la favorita del governatore e Candido perseguitato dalla giustizia è costretto a fuggire c'era un servo che lo accompagnava già da un po' di tempo sin dal Portogallo che ha un nome particolare un nome Cacambo e infatti è una dimostrazione di come in lui ci fosse forse un sangue indios accanto a quello portoghese guidato proprio da questo servo Candido giunge nel regno dei gesuiti quindi nel Paraguay e ritrova il fratello di Cunegonda il baronetto il figlio del barone il quale però è contrario al matrimonio di Candido con la sorella infatti dobbiamo spiegare che che Candido ha promesso quando finalmente termineranno tutte queste peripezie di sposare Cunegonda a questo punto Candido uccide anche lui quindi ecco perché vi stavo parlando di tre omicidi indossa gli abiti di questo baronetto le fogge di questo baronetto che tra l'altro era gesuita si trovava lì in Paraguay proprio perché il figlio del barone di Tunderter Tronc era diventato un gesuita e cominciano a questo punto tutta una serie di avventure nel cuore del Sud America andando come vedete in questa cartina andando più verso nord ecco qui vi dicevo appunto Cacambo è il servo che dal Portogallo segue e aiuta Candido esattamente come la vecchia è un personaggio positivo perché nonostante il suo livello sociale sa parlare tutte le lingue in uso in America Latina si dimostra furbo fedele al suo padrone in molte occasioni è lui a guidare Candido tra l'altro i due cioè Cacambo e Candido si scambiano delle osservazioni e proviamo a leggere un breve dialogo fra di loro per esempio Cacambo chiede e dice a lui a Candido che cos'è l'ottimismo e Candido risponde ahimè è la smania di sostenere che tutto si va bene quando si sta male ecco perché dico a differenza di quello che dice qualcun altro che in realtà secondo me questo è anche un romanzo di formazione perché intanto Candido questa cosa l'ha capita cioè ha capito che non regge l'ottimismo di fronte alla realtà ecco stavamo parlando però di queste peripezie nel cuore del Sud America e quando si arriva in questo cuore del Sud America Cacambo e Candido passano attraverso delle regioni fantasiose fantastiche ad esempio nel capitolo 16 si racconta di quando arrivano fra gli orecchioni e le scimmie e a questo punto Candido uccide anche queste scimmie e poi uccide queste due scimmie che erano con queste ragazze le ragazze stavano scappando da queste scimmie i due amici però vengono appunto catturati dalla tribù degli orecchioni questi credendolo un gesuita perché vi ricordate che Candido aveva messo addosso i panni del baronetto cioè del fratello di Cunegonda lo vogliono mangiare Candido anche qui in maniera miracolosa riesce a a sopravvivere a scampare dalla da questa tribù di questi orecchioni si spostano in Cayenna per poi giungere nel paese dell'Eldorado dove vengono ospitati dalla famiglia reale in questo Eldorado si racconta ad esempio di questi montoni dopo un mese partono dall'Eldorado carichi di tesori anche se Cacamba non capisce bene il motivo per cui devono andare via da questo Eldorado dal momento che in quel posto non ci sono oppressori non ci sono preti gesuiti di nessun genere non ci sono come dire prevaricazioni non ci sono disuguaglianze è un posto veramente in cui si vive molto molto bene addirittura questi abitanti dell'Eldorado considerano quello che per noi magari è importante come l'oro qualcosa di poco valore perché andarsene via però sta di fatto che a un certo punto i nostri due se ne vanno via carichi di tesori si dirigono verso il Surinam che è una parte della Guyana lì incontrano Martino che è un manicheo è un pensatore che è veramente un po' all'opposto rispetto a Pangloss e che quindi riconosce che non solo il male c'è nel mondo ma è anche molto molto forte e potente a questo punto si dividono Cacambo e Candido Cacambo parte alla ricerca di Cunegonda Candido intenzionato a partire per Venezia viene derubato dall'ammiraglio diretti a Bordeaux il vascello affonda e giungono a Parigi dove tra l'altro ecco come dire lui il nostro Candido sarà imbrogliato però prima di questo in realtà volevo soffermarmi ritornando un attimino indietro sul capitolo diciannovesimo del libro quando capita a Cacambo e a Candido che sono ancora insieme di vedere un servo uno schiavo nero lì appunto in quel Surinam ecco questa è l'occasione per Voltaire di porre l'accento sull'assurdi su un'altra assurdità grande enorme della nostra Europa cioè quella di credere di essere superiore alle popolazioni e ai popoli che si trovano in altri continenti e di poter esportare la civiltà la cultura la società europea ritenuta superiore insomma anche in questo direi che Voltaire è stato sicuramente un grande anticipatore perché è stato tra i primi a capire quali erano gli effetti deleteri del colonialismo nell'avvicinarsi alla città la città si diceva di questa guyana olandese Surinam videro giacere in terra un negro il quale non aveva più che una metà del suo vestito di un paio di mutande turchine il povero uomo inoltre era privo della mano destra e del piede mancino buon Dio fece candido in olandese che fai tu qui amico in questo orribile stato e questo nero risponde aspetto il mio padrone l'illustre mercante signor Van de Verdur Van der Dendur ecco attenzione anche quest'altro Van der Dendur è prototipo del mercante senza scrupoli e anche questo nome sicuramente è una sorta di presa in giro insomma di chi vende agli altri riesce a a fare il venditore ecco anche la parola vendeur che è l'originale francese è un venditore senza scrupoli insomma un commerciante un mercante a cui interessa solamente far soldi derubare gli altri ed è forse stato il signor Van der Dendur a concerti in questa maniera sì signore da noi usa così due volte all'anno ci passano un paio di mutande è il nostro unico vestito quando lavoriamo nei mulini da zucchero la macina ci strappa un dito ci tagliano la mano quando tentiamo di fuggire ci tagliano la gamba a me sono capitati tutti e due questi casi ecco perché è così conciato questo nero questo servo questo schiavo è proprio la dimostrazione questa dell'assurdità della violenza dell'oppressione degli europei sempre approfittatori che utilizzano e sfruttano le colonie non come dicono teoricamente per diffondere la civiltà europea la civiltà superiore alla civiltà occidentale ma solamente per arricchirsi alle spalle di questi poveracci andiamo appunto dicevamo a Venezia Parigi Venezia si ritorna insomma in questa terza e ultima parte del nostro romanzo in Europa cerca disperatamente di trovare Cacambo ma non riesce Candido una volta che arriva anche a Venezia Martino li consiglia che ormai è diventato il suo nuovo accompagnatore li consiglia di dimenticarsi di quel servo di Cacambo di dimenticarsi di Cunegonda di dimenticarsi di tutto Candido incontra Paquette che è diventata prostituta il senatore poco curante che ha tutto ma è infelice siamo nel capitolo venticinquesimo del romanzo questa ad esempio è la biblioteca del nobile poco curante lì a Venezia in un'osteria Candido e Martino incontrano sei despoti spodestati a Venezia per il carnevale alla fine ritrovano Cacambo il quale poveraccio è stato ridotto in schiavitù a questo punto prendono nuovamente il largo la nave e si dirigono verso Costantinopoli dove noi abbiamo degli incontri fondamentali che caratterizzano le ultimissime pagine del nostro libro ad esempio tra l'altro si ritrova Pangloss è una cosa ecco il romanzo non ha sempre delle incoerenze ad esempio ci sono personaggi che muoiono e poi non si sa bene come ricompaiono miracolosamente salvati e scampati alla morte non è questa evidentemente la cosa che interessava di più a Voltaire cioè diciamo così la coerenza della storia dell'intreccio a lui interessava appunto come dicevamo ridicolizzare le teorie da lui ritenute assolutamente infondate e cercare invece di capire quali potevano essere gli insegnamenti che la vita ci può dare e questi sono concentrati poi nell'ultima parte del romanzo ecco il motivo per cui adesso vi dico sappiatelo vado a spoilerare cioè a dirvi questi tre ultimi incontri fondamentali e quindi anche a dirvi come termina questo romanzo abbiamo detto che siamo arrivati in Turchia a Costantinopoli sulla nave Candido riconosce Pangloss e anche il fratello di Conegonda persino il baronetto ma è un amico ammazzato lui niente ricompaiono tutti i vivi come per miracolo incatenati ai remi li riscatta cioè insomma li salva in Turchia trova nuovamente quindi Conegonda e la vecchia vengono liberate anche loro e a questo punto vi dicevo ci sono questi incontri fondamentali il primo incontro è con un saggio musulmano ecco non so se conoscete per esempio le canzoni di Battiato che certe volte cita questi dervisci i dervisci sono dei sacerdoti insomma dei religiosi musulmani che anche danzando su loro stessi cercano di raggiungere uno stato di estasi mistica insomma sono dei saggi musulmani dei saggi turchi chiamiamoli così no? e allora Candido Pangloss e Martino si avvicinano a uno di loro a uno di questi dervisci a uno di questi anziani saggi musulmani per trovare una risposta al problema del male e del senso della vita che sono in fondo poi i problemi soprattutto quello del senso della vita che avevano arrovellato i filosofi per la maggior parte della storia della filosofia è evidente che qua il nostro Voltaire vuole dimostrare che è inutile cercare di affrontare questi interrogativi e vale la pena invece di fare altro però come lo capì come lo fa capire questa cosa come ce lo trasmette questo ce lo trasmette con questo incontro con questo derviscio il derviscio invita di fronte a questi interrogativi a far silenzio che cosa bisogna fare allora dice Pangloss tacere disse il dervi il derviscio rinunciare a porsi ai problemi insolubili e quando insistono con lui cioè continuano a interpellare questo saggio per avere le risposte sulle domande esistenziali della vita il derviscio sbatte l'uscio insomma li chiude a porta in faccia proprio a dimostrare il discorso che facevamo prima poi incontrano un contadino leggiamo proprio il brano di questo incontro con questo povero contadino turco voi disse candido al contadino dovete avere una terra estesa e magnifica lo vedeva infatti come una persona contenta felice della sua vita e quindi immaginava che potesse essere un grande proprietario e invece il contadino risponde no venti iugere appena come dire quindi che un pezzetto di terreno piccolo rispose il turco e ricoltivo con i miei ragazzi si intende con i miei figli il lavoro allontana da noi tre grandi mali la noia il vizio e il bisogno questa è sicuramente una delle frasi più famose di questo libro del candido di Voltaire e che insomma rappresenta qualcosa di interessante per noi ancora oggi noi cerchiamo sempre di ripartire dal lavoro perché abbiamo capito che è fondamentale questo il lavoro per l'uomo bene allora stavo dicendo che come termina quali sono le ultime parole di questo romanzo sono importantissime cioè sono sempre in base a questo ultimo incontro sono una riflessione una riflessione che ci fa capire che ormai candido è completamente cambiato rispetto all'inizio del romanzo questa frase però è una frase che è da interpretare cioè non si capisce bene immediatamente che cosa possa significare la conclusione è questa è ben detto che è necessario coltivare il nostro giardino preferisco questa traduzione a coltivare il nostro orto perché coltivare l'orto ha secondo me in italiano una connotazione un po' negativa quando si dice per esempio coltivare il proprio orticello per dire il proprio interesse particolare egoistico mentre questa frase è un significato diverso coltivare il nostro giardino vuol dire affrontare con responsabilità il nostro compito qua sulla terra non cercare un senso al tutto come ha fatto in genere la filosofia fino ad allora ma evitare il male ridurre la sofferenza darsi da fare così semplicemente come faceva quel contadino che in quel modo lavorando scacciava la noia il vizio e il bisogno quindi possiamo dire che in fondo non è poi così pessimista Voltaire nel momento in cui ci sarà da parte dell'uomo una solidarietà nei confronti dell'altro uomo beh allora si potrebbe anche essere ottimisti non possiamo essere ottimisti nel senso pensare che appunto la natura direbbe Leopardi o in generale quello che ci capita sia sempre così positivo il male c'è il male non si può ignorare l'ottimismo filosofico è inconsistente sul piano conoscitivo e pericoloso sul piano pratico e morale perché magari può arrivare come vi ricordate quegli inquisitori che ammazzavano per sacrificare e placare così l'ira divina con degli auto da fe e quindi per far terminare il terremoto l'ottimismo può portare quindi come abbiamo visto in quel caso a legittimare l'irrazionalità e la violenza mentre invece bisogna al massimo abbracciare un ottimismo fondato sulla tolleranza sulla pace non c'è secondo Voltaire che comunque non era un ateo ma era un deista non c'è un progetto divino per la realtà cioè non c'è un disegno providenziale lui pensava ogni popolo ha i suoi dei propri dei non si può dire quindi che che Dio vero sia questo piuttosto che questo quest'altro ma di sicuro secondo Voltaire Dio non è rappresentato sulla terra da una casta sacerdotale di una religione piuttosto che di un'altra religione insomma secondo Voltaire occorre essere solidari con gli altri uomini essere in pace essere tolleranti con gli altri uomini maturare quindi la conoscenza riflettere sull'esistenza che è un'esistenza fatta anche di male di atrocità di cose assurde come abbiamo visto la guerra il colonialismo la superstizione il fanatismo fondarsi semmai sull'amicizia sull'amore come abbiamo visto in questi personaggi anche positivi che abbiamo conosciuto come la vecchia Cacambo conoscenza